il giocatore più veloce al mondo. Soprattutto quando ha il disco, penso che il suo pattinaggio è incredibile, riesce sempre ad attaccare la porta quasi in tutte le situazioni. Credo che Cindy Crosby, penso che lui è incredibile nella mobilità che ha, riesce sempre a trovare spazi, anche negli spazi stretti, riesce sempre a muoversi, anche dietro porta quando c'è un avversario riesce sempre ad uscire dall'angolo e attaccare la porta, quindi penso sia lui. Patrick Kane, penso sia incredibile, quando ha il disco sulla paletta, penso è una magia vederlo e riesce sempre a creare qualcosa di pericoloso. Ovechkin, penso sia il giocatore con il, nettamente con il tiro migliore, ha una bomba e può tirare sia one-timer, sia anche come brief shot, come velocità di esecuzione, penso che sia il migliore. Dalla linea blu penso Weber, penso che lui abbia il tiro più forte dell'NHL. In difesa abbiamo giocatori che possono, come Cronwall, che può far male all'avversario. Mi piace molto Kucerov, credo che lui ha una visione di gioco incredibile, può fare degli ottimi assist e in power play può essere decisivo. Penso Patrice Bergeron, ho giocato con lui a Lugano, l'ho visto anche qua, comunque era un ottimo lavoratore, anche NHL riesce ad avere tanto successo. Perfec place.